Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Business Center. Sono Silvano, responsabile di vendita e veicoli commerciali. Voglio introdurvi immediatamente nella nostra operatività. Quindi veicoli allestiti come celle isotermica meno 20, oppure incoibentato solo strada L181, venite a vederlo perché è molto interessante. Furgolatore in alluminio comportato fino a 3.800 mm o 4.200, quindi 7-8 palette. Oppure anche usato, usato in pronta consegna con pochi chilometri. Vi aspetto, venite a trovarmi perché sono offerte molto interessanti. Ciao ciao e buona continuazione. Grazie a tutti.